Di sicuro i funerali del boss Claudio Modeo si svolgeranno a Taranto, probabilmente al quartiere Paolo VI, il suo quartiere di origine dove c'è ancora la casa materna ed un'attività commerciale di famiglia, un distributore di carburanti lungo il vialone principale del quartiere. Al momento tutti i suoi familiari più stretti sono a Secondigliano dove nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia. Claudio Modeo sarebbe morto d'infarto a 49 anni nel supercarcere campano. Al momento in città non c'è neanche un manifesto funebre e non si sa ancora se per motivi di sicurezza il questore disporrà misure particolarmente restrittive per il funerale. Claudio Modeo mancava ormai da Taranto da oltre 25 anni quando venne arrestato. Solo un paio di permessi premio, malgrado la condanna all'ergastolo, perché aveva dimostrato al Tribunale di Sorveglianza di essersi in qualche modo redento anche se mai pentito. Non era più il giovanissimo boss ventenne senza scrupoli, quello della guerra di Mala e intrafamiliare con il fratello Tonino, il messicano, quella che provocò in città 160 morti ammazzati in pochi anni. Aveva contatto solo con i suoi familiari più stretti, le sorelle e i nipoti e con i suoi legali, tra questi l'avvocato Giuseppe Lecce. Sicuramente era una persona molto cambiata, anche perché francamente non aveva nella maniera più assoluta accettato di scontare una pena dell'ergastolo perché lui si è sempre protestato innocente in merito all'omicidio Masella. La collega, credo Letizia Serra, si era interessata anche durante la fase dell'esecuzione per poter ottenere questi permessi premio e quindi questo sicuramente lo aveva riabilitato da un punto di vista psicologico e morale.